No, mi trovo la libreria per riprenderlo, perché è stata al massimo o adesione da mio collega, non so che riprenderlo bene, guarda che lo fa, perché la direzione avviene a matrimonica e lo riprenderò, sai che si ha fatto che i denti di camere, che ti controlli il cellulare, basta!